operazione all in sigilia una villa a favignana nel 2020 finanzieri scoprirono un vasto giro di scommesse illegali dopo le condanne è scattato oggi il sequestro pari a 43 milioni di euro inaugurata la ruota panoramica il taglio del nastro è avvenuto questo pomeriggio alla presenza del sindaco giacomo tranchida e l'assessore lele barbara inaugurata anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio caro voli cambiano le regole degli sconti la riduzione sarà adesso estesa anche per i biglietti di costo inferiore ai 50 euro ben ritrovati con l'edizione serale del nostro tg sud dopo le condanne scaturite dall'operazione all in del 2020 scatta il sequestro per 43 milioni di euro sigilli anche ad una villa di favignana tutti particolari nel nostro servizio c'è anche una villa favignana tra i beni sequestrati oggi dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di palermo su richiesta della procura per 43 milioni di euro nei confronti dei due imprenditori salvatore rubino 62 anni e cristian tortora 47 anni di battipaglia i due secondo le indagini dei finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria di palermo sarebbero i referenti di un gruppo societario contiguo alle famiglie mafiose di pagliarelli bortanuova palermo centro brancaccio e noce i due imprenditori vennero arrestati nell'operazione all in messa a segno nel 2020 che portò alla luce una rete di scommesse illegali insieme al boss francesco paolo maniscalco l'indagine ha ricostruito la sistematica ricerca del potere economico da parte di cosa nostra che tenta di infiltrarsi nel lucroso settore della gestione dei giochi e delle scommesse sportive secondo quanto ricostruito dai finanziari del gico le imprese che facevano riferimento al boss francesco paolo maniscalco grazie al rapporto con la mafia avrebbero acquisito la disponibilità di numerose licenze e concessioni statali rilasciate dall'agenzia delle dogane e dei monopoli per l'esercizio della raccolta delle scommesse fino alla creazione di un impero economico costituito da società formalmente intestate a prestanome che nel tempo erano giunte a gestire volumi di gioco per circa 100 milioni di euro nel giugno del 2020 sono state seguite 25 misure cautelari personali nei confronti di indagati a vario titolo per partecipazione e concorso esterno in associazione di stampo mafioso trasferimento fraudolento di valori associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata e all'esercizio abusivo dell'attività di giochi e scommesse i due imprenditori raggiunti dal provvedimento di sequestro sono stati condannati in appello a luglio 2023 il tribunale ha sequestrato tre immobili tra cui una villa favignana quote di capitale e compendi aziendali di undici società con sede nelle province di milano roma salerno e palermo 45 rapporti finanziari costituiti da conti correnti conti deposito deposito titoli polizze assicurative buoni postali per un valore complessivo di circa 43 milioni di euro andiamo avanti ancora con la cronaca con l'auto rubata a provocare un incidente stradale accaduto a mazzara del ballo dove sono stati denunciati due tunisini a folle velocità per sottraresi ai controlli dei carabinieri provocano un incidente stradale ferendo una donna e i suoi due bambini che viaggiavano a bordo di un'auto che si è scontrata con quella dei fuggitivi protagonista della vicenda due tunisini di 22 18 anni con alle spalle precedenti di polizia che sono stati denunciati erano su una lancia y rubata che si è imbattuta in un posto di blocco i militari dell'arma hanno intimato l'alt ma il conducente invece di fermarsi ha peggiato sull'acceleratore dandosi a precipitosa fuga la macchina lanciata a forte velocità è andata a scontrarsi con l'auto sulla quale viaggiavano madre e figli che sono finiti in ospedale per fortuna hanno riportato lievi lesioni dopo aver provocato l'incidente due nord africane sono scelti dal veicolo proseguendo la loro fuga a piedi ma sono stati subito bloccati dai carabinieri dagli accertamenti emerso che la lancia y era stata rubata lo scorso 16 novembre l'auto era in dotazione all'ufficio igiene degli alimenti animali del distretto asp di mazzara del vallo i ladri avevano portato via due auto e cedole carburanti una delle due macchine era stata però recuperata dai carabinieri che hanno denunciato per il reato di ricettazione altri due tunisini in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne in programma domani si è svolta questa mattina nell'aula magna del conservatorio scontrino l'iniziativa il filo rosso che lega disparità di genere e violenza contro le donne costruiamo insieme la rete antiviolenza promossa dalla cgl ai nostri microfoni la segretaria del sindacato di trapani liria canzoneri e la segretaria confederale della cgl sicilia gabriella messina ascoltiamo oggi noi non vogliamo soltanto celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne oggi la cgl vuole fare delle proposte concrete che si possono mettere in campo con la formazione di un interesse comune una rete anche con le istituzioni locali al fine di contenere anzi addirittura eliminare questo problema noi chiaramente rappresentiamo il mondo del lavoro e rispetto a questo riteniamo che ci siano delle proposte da mettere in campo che sono assolutamente realizzabili nel nostro territorio che sicuramente possono incidere in maniera importante nel contenimento di questo fenomeno chiaramente non c'è una soluzione ma tutte le proposte che si stanno mettendo in campo io credo che siano assolutamente insufficienti non si tratta soltanto di come dire mettere oggi e solo oggi fare il focus sulla su questo tema ma avere una continuità nel tempo che dia alle donne la possibilità di non dover soccommere più rispetto a questo fenomeno la proposta è una proposta di alleanza con tutte le reti e con tutte le istituzioni che passa attraverso quello che noi abbiamo declinato nella piattaforma bellacciao dal livello nazionale a livello regionale fino anche ai livelli territoriali sono molteplici azioni che vanno incontro al superamento delle disparità di genere perché la violenza di genere è l'esito in fausto ultimo di quello che è una disparità che corre su tante su tanti percorsi come quelli dei gap salariari come il tema della disoccupazione come il tema dell'assenza dei servizi come il tema di essere sempre meno vicini alle donne da parte delle anche delle istituzioni tanti progressi normativi sono state fatte tante norme sono ancora inattuate la cgl è in campo da decenni per concretizzare le proposte che hanno trovato spazio nelle leggi ma soprattutto per concretizzare una grande alleanza insieme agli uomini che vada in contro il superamento di queste disparità è alla vittoria sulla violenza delle donne e cambiamo completamente argomento inaugurate questo pomeriggio la ruota panoramica e la pista di ghiaccio il taglio del nastro avvenuto in presenza del sindaco di trapani giacomo tranchida e dell'assessore emanuele barbara è stata affidata a due bambini trapanesi tagliare il nastro è stata vittoria poi la bambina di otto anni è stata la prima a salire accompagnata dalla sua mamma e dall'assessore lele barbara su una delle cabine della ruota panoramica per il viaggio inaugurale la cerimonia questa sera a trapani nella centralissima piazza vittorio emanuele mi sono divertita racconta vittoria appena scesa dalla ruota lassù è bellissimo quella che è destinata ad essere la principale attrazione del natale trapanese adesso è entrata in funzione costo dei biglietti che comprendono due giri 7 euro gli adulti 5 euro e bambini fino a 10 anni ed è stata inaugurata anche la pista di ghiaccio realizzata alla villa comunale margherita insomma trapani è già entrata nel magico clima natalizio quest'anno c'è questa bella novità della ruota panoramica in realtà non è l'unica novità abbiamo la pista di pattinaggio su ghiaccio all'interno della villa margherita è una novità che certamente fa discutere fa chiacchierare ma in realtà è una novità a costo praticamente zero per il comune noi abbiamo fatto un avviso pubblico come premialità abbiamo dato il suolo gratuito ed un allaccio di corrente il resto tutti i costi sono a carico ovviamente dei gestori costi non da poco soprattutto quelli di trasporto per arrivare a trapani sono iniziative che andranno avanti fino al 28 di gennaio mentre dall 8 al 29 di dicembre ci saranno i mercatini di natale davanti la villa margherita quest'anno ci spostiamo di qualche metro sia mercato dell'artigianato che mercato degli obbisti non mancherà nemmeno la casetta con babbo natale un po di animazione e chiaramente le luminarie che stanno per arrivare in giro per tutta la città dunque quest'anno cerchiamo di fare qualcosa in più con la ruota e la pista di pattinaggio speranzosi che possano essere graditi alla cittadinanza caro voli in sicilia cambiano le regole per gli sconti ma solo per le tratte da e per roma e milano le possibilità di sconto sui biglietti aerei per i residenti in sicilia aumentano grazie all'intervento della regione la riduzione si estenderà anche ai biglietti di costo inferiore a 50 euro e a chi ha prenotato dal 10 novembre l'assessorato delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato un nuovo avviso che abolisce la soglia per ricevere il beneficio le compagnie rotalia ita airwaves e with air hanno già aderito mentre si sta dialogando con altri vettori per ulteriori adesioni lo sconto sarà applicato ai collegamenti degli aeroporti siciliani con roma e milano sia in andata sia in ritorno per i voli dall'1 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il presidente della regione renato schifani sottolinea che grazie alle nuove risorse messe a disposizione si amplia la platea dei viaggiatori siciliani che potranno beneficiare dello sconto garantendo così un aumento dell'offerta ai prezzi più accessibili durante le prossime festività questa è la nostra ultima notizia la linea adesso passa allo sport a voi tutti auguro un buon proseguimento di serata